Muore mentre lavorava per prendere alcune misure cadendo dal balcone. L'episodio, che si è verificato a Gabice intorno alle ore 18 di ieri, riguarda un architetto di 62 anni originario di Ferrara. Il libero professionista si trovava per motivi lavorativi presso l'hotel Continental, dove doveva prendere delle misure. Tuttavia, per motivi ancora da accertare, è precipitato morendo sul colpo. Sul posto, oltre ai carabinieri e al 118, era presente anche un tecnico dell'azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino, incaricato di effettuare rilievi per verificare la sicurezza del luogo di lavoro. Da quanto emerso, tutto è risultato a norma, compreso il parapetto della balconata. Da quanto sembrerebbe, l'uomo, di sua iniziativa, avrebbe scavalcato quest'ultimo per effettuare dei rilievi, seppur non fosse necessario esporsi ad un simile rischio. Per questo motivo non si esclude l'ipotesi di un suicidio. L'assalma infatti, attualmente sotto fermo giudiziario, sarà sottoposta ad autopsia. Gli inquirenti indagano per ricostruire la dinamica dei fatti.